Che per gli animali i macelli rappresentino strutture dell'orrore è cosa nota, ma i matatoi possono causare addirittura problemi fisici ai lavoratori, soliti disossare manualmente manzi, mucche e vitelli. Appuntare i riflettori su questo fenomeno è stata l'inchiesta in sicurezza sul lavoro di Bernardo Jovene in collaborazione con Lidia Galeazzo e Greta Orsi per Report. Dopo aver raccolto documenti e testimonianze, i giornalisti di Rai 3 hanno scoperto che negli stabilimenti in alca del gruppo Cremonini, tra i principali player nel settore delle carni bovine, l'Inail ha individuato 35 dipendenti con malattie causate dalle modalità di lavorazione dei capi di bestiame, tra le patologie più comuni, ernie e sindromi del tunnel carpale. Proprio per questo l'ATS di Milano ha chiesto di assicurare ai macellai pause più lunghe e ritmi meno stressanti. Eppure, dopo aver effettuato controlli all'interno dell'azienda, un medico del lavoro attualmente in pensione ha raccontato i discutibili metodi di sezionamento degli animali. Risultato, alcuni dipendenti sono stati licenziati. Ma gli addetti dell'industria della carne possono sviluppare anche disturbi psicologici? Ci sono alcuni studi che dimostrano l'impatto emotivo e psicologico che ha uccidere quotidianamente animali o lavorare le loro carcasse. Quindi se da una parte ovviamente c'è un problema dal punto di vista fisico, perché è un lavoro logorante, è un lavoro anche rischioso, è uno degli ambienti di lavoro dove ci sono più feriti e questo lo denunciano appunto le associazioni di categoria, però ci sono anche dei problemi psicologici che troppo spesso vengono sottovalutati e uno dei problemi più gravi è la sindrome della stress post-traumatico, di cui uno magari non si accorge immediatamente ma che ha delle ripercussioni sul lungo termine, quindi diventa normale una normalizzazione della violenza sugli animali che poi si può ripetere in altre situazioni oppure può anche venire traslata sugli esseri umani e questo è un problema appunto sociale perché noi paghiamo persone per fare del male degli esseri viventi, per ucciderli come fonte di guadagno, come lavoro e questa non è certo colpa di chi lo fa, è colpa di un sistema che soprattutto poi sfrutta persone più fragili perché sono anche lavori pagati poco, sono lavori in cui abbiamo visto anche soprattutto in Italia ma non solo, lavorano persone immigrate, persone più deboli, persone più bisognose, mentre gli italiani prevalentemente si rifiutano di fare un certo tipo di lavoro.